Twin Color è un progetto artistico in prima nazionale, significa che la parte live del progetto è per la prima volta che si ospita in Italia, ma soprattutto è qui a Pesaro che è nata la componente creativa ad hoc, size specific, pensata, creata per la sonosfera. Un progetto che si inserisce nella nostra sezione che è la natura vivente della cultura, che come ormai si sa è la sezione che contiene i grandi appuntamenti internazionali della programmazione di Pesaro 2024, è un progetto a cui noi abbiamo tenuto molto e teniamo molto perché ci consente di esplorare in maniera profonda il tema della natura e della cultura. Gli artisti Murkoff e Simon Gelfius esploreranno una foresta immaginaria, quindi entreranno dentro una narrativa che ci consente di poter ipotizzare da un punto di vista creativo come l'intervento umano inaspettato dentro un ecosistema può effettivamente generare dei processi trasformativi, quindi molto coerente con il progetto della sonosfera, molto coerente con il nostro tema, ma soprattutto straordinariamente affascinante dal punto di vista creativo, proprio perché si utilizzano i linguaggi dei vecchi sintetizzatori, messi insieme ai linguaggi dei videogiochi, tutto questo ovviamente in una partitura sonora dal grande fascino emotivo. La musica ha diversi progetti che partono dall'anno 2020 e poi sono poi continuati fino ad oggi. presenta diverse influenze sia ambientali ma anche soprattutto troveremo anche la voce di mia figlia perché mi ha aiutato a costruire questo progetto e quindi sentirete anche la voce di una piccola bambina. Ho utilizzato per la base diversi sintetizzatori, quindi dei synths, che riprendono anche le radici da cui sono partito negli anni Ottanta. Ho voluto coinvolgere Simone e quindi abbiamo parlato insieme per riprendere anche dei tratti che riguardano la old school per combinare musica e parti visual ed è per questo anche che ho deciso di continuare e riprendere l'uso dei synths. È stata davvero una sfida poter creare questo progetto e soprattutto adattarlo alla sonosfera perché solitamente c'è l'immagine che è al centro e i suoni che provengono dai lati mentre in questo caso abbiamo dovuto fare in modo che ci fosse una continuazione a 360 gradi sia per le immagini che per i suoni appunto.